E il gruppo delle mamme? Sono Cammela, mamma di Sandino, scusate ma qua stanno arrivando altre comunicazioni della scuola, mamma mia! Ora c'è scritto qua, mi raccomando ai genitori di prendere le dovute misure di precauzione. Ma io dico, ma tutte queste complicanze quest'anno, ma cose da pazze. Mamme, io non lo so come si prendono queste misure di precauzione, capi? C'è piccino, c'è piccino, giro collo, giro vita, misure dei bracci, delle gambe, giro casa la testa, tutti ce le piccino misure. Ma questa qui io non so come si prende, voi come avete fatto? Fatemi sapere, grazie! Piii, ora ci chiamo a Mariuccia, che quella fa la sarta capace che lo sa!